ciao a tutti oggi vi ho portato qui nel paradiso qui stiamo salendo verso il passo di bal abbiamo appena lasciato il rifugio pradidali questa mattina siamo partiti dalla val canali mentre dal pradidali si poteva salire anche a rosetta e verso il ghiacciaio la fradusta e poi scendere verso il rifugio treviso noi stiamo salendo qui al passo di bal perché prossimamente dovremmo fare l'anello che parte da san martino saliamo rosetta scendiamo pradidali saliamo al passo di valle e scendiamo di nuovo san martino va bene giornata come vedete magnifica vi saluto facciamo una piccola panoramica e terry sferrox è sempre in cammino ciao a tutti alla prossima